Just too good to be true 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 Ehi ragazzi, buongiorno ragazzi! Allora, ho lasciato Lucia al negozio e ora mi sto dirigendo a fare una richiesta di una cartella clinica all'ospedale che potrebbe servirmi, dai! Allora, oggi, giornata calda, ci sono 28 gradi ho chiuso i finestrini per parlare con voi e sto sudando come una bestia di foresta e prima di andare qui ho preso un bel caffettino un buon caffettino da Federico, l'amico nostro al bar Ultimo Bacio L'Ultimo Bacio e niente, praticamente ragazzi ogni volta che passo in quella via dove dove gira la nostra casa fa male, fa male, fa male però dai che fa, che fa che fa dai purtroppo purtroppo è nata così però chissà se un domani in quella casa ritornerà ritornerà a noi comunque dai, voltiamo pagina oggi Pippo Baudo fa 80 anni chi se ne frega io giorno 31 ne faccio 31 31 di agosto aspetta che c'è la polizia c'è la pula anzi oggi sono i cacabicchieri ci sono i cacabicchieri e c'è un posto di blocco vabbò dai troppe chiacchiere ho detto in questo primissimo video della mattinata ed è arrivato un pacchettino chissà cosa conterrà rrr ue ragazzi allora siamo arrivati a casa dopo una lunga giornata proprio di di stress allora vi ricordate il pap che vi ho fatto vedere è di lucia questo pacco io altro vai aspetta che non voglio tagliarmi con i cartoni indovinate cos'è indovinate cos'è guardate guarda tutta la forza sulla faccia la mette questo è il mio regalo abbiamo contato no la ragazza di capo santo questo è il mio regalo di compleanno per lucia e cos'è e cos'è spiegalo tu è una spazzola che piaccia i capelli ma facciamola un box come si chiama si chiama si chiama fast air strike fast air strike 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 trainer 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 scusate il mio singolo in inglese è pessimo ha caputti allora si tiene la chiede del computer wow cosa contiene la spazzola contiene un unico o è la scatola e lei che sta spazzola non lì lì dentro il pappo dentro il pappo ci saranno i brazzi di istruzioni vabbè che nessuno leggerà mai solo lucia potrà leggere è tutto in inglese va bene passiamo alla spazzola dai che è quella più importante questa è la spazzola allora vediamo cosa le settele come sono sono morbide in silicone forza che aveva una cosa in ceramica allora praticamente queste qui sono belle morbide guardate ma è poi cioè quelle di giù queste sono rigide sono rigide e sono in ceramica allora poi dove andranno a passare i capelli questi vabbè sono morbidi perchè sono una spazzola no? e ci sono le varie altezze eh sì ho spazio vedi è tutta eh sì guarda ci sono quasi più alte poi con il più basso poi passi ancora qui c'è praticamente il display ecco il display che andrebbe vediamo accendere di qua la cina e poi di qui c'è il pulsante on e più e il meno per aumentare e diminuire la temperatura la temperatura che è? fino a? 230 dice e bisogna provarlo andiamo a provarlo? adesso andiamo allora siamo al collegamento pigiamo on devo tenere premuto si oh già a 180 gradi sta? 180 no ah 25 26 gradi a 180 è messo impostato a 180 e poi c'è da 125 no? si fino a vabbè da quando è freddo fino a arriva a 180 e lo proviamo a 180 cosa non è? eh si proviamo a 180 allora 180 gradi arrivati ora proviamo di qua parla di qua che di qua si riprende? guarda io con la destra sto pegro man scusa 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 me Lucia è un po' furba ma ora si prende l'altra parte vediamo già si vede il risultato comunque aspetta che mi sembra guarda perché se mi vuoi? scusate ragazzi allora ragazzi praticamente avevo una telefonata no abbiamo alzato la temperatura a 2.30 il massimo vediamo però si vede il risultato eh si già si vede un piccolo risultato io sono piccolo man si dai però devi fare verso il sotto ma se devi fare il sopra perché non è che capi si perché vedi qua sopra non è che riesci a mettere eh si dai tu 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 i tuoi capelli devi vedere tu dai le musiche che sono stirate occhio sono ballenti ok ragazzi dai questo è fatto mi presenta fatto molto di luce con i capelli non proprio puliti e con non fatti bene bene dai non fatti bene diciamo che stanno bene dai poi dobbiamo vedere doveva togliere un po' di capelli che ci sono rimasti dentro più che altro dobbiamo vedere domani come come stanno tenendo appunto presente che scirocco e tante cose però ci può stare però diciamo che se devi uscire all'improvviso eh si se è una passata così ci può stare poi ragazzi siamo qui alla fine del video ma perché urli che sono mezzanotte e mezza di là e cristiani dormono no no c'è per me siamo a toccare ma cosce no 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 se non c'è po' pure a parlare gi 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 non potremmo fare un mok ma sei ziii ziii comunque ragazzi mi sono tagliato il pelo meno male madonna mia madonna mia no mi stanno proprio scorciando qui i capelli lunghi e ti faccio un capello corto padminchiam proprio ah fatto in casa eh certo l'ho fatto io l'ho fatto bene l'ho fatto bene ma ho trovato io i segui i segui ho capito le segnalazioni la mano è mia si la mano eh la mano la mano si però la macchinetta è mia che c'entra la macchinetta ma eh non è come si dice è l'attrezzo vado dal parrucchiere però il locale è mio che l'ho fittato io in caso sfitta c'entra quando puoi magari la parrucchiera che ti fai i capelli ma la macchina è buona è buona ho capito ma deve essere buona anche la mano dice il regolare ma deve essere buona anche la mano a tagliare ragazzi eh è la stanchezza lui è così niente ragazzi eh c'ho le capelli che gonfiono ahahah 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 ragazzi giuro non ha bevuto né birra né vino né niente però però lei continua a giocare con i giochini stupidi ehm meglio di quei giochini hai la domanda devi spalmare le gelatine cioè mi sta mettendo le gocce alle orecchie eeeh ho provato io a fare due minuti quel giochino spalma le gelatine e riempi le torte svuota le torte fai uscire i pesciolini quanto si bugia c'è 3 mosso ho fatto 10 e 10 frasi mattina sei un bugiardo perchè tu ieri mi hai fatto installare quel gioco ma ieri ieri che c'è l'ho passata 24 ore sono passata più l'offio non si può che solo tu le puoi mettere quelle in cui solo tu l'offio ah io l'offio va boh ragazzi io l'offio noi vediamo l'appuntamento domani il video termina qua iscrivetevi commentate condividete mettete un bellissimo mi piace e ci vediamo domani ciao ciao